bella a tutti ragazzi guardi il nuovo video troppo bello però c'è dai ci facciamo bella pantitozza prima è libera perché bisogna potenziarsi figa dio canno dai su 9 secondi dai ci avviciamo tra zero faccio tre full team rapidi poi basta veloce ma figa casante merda bella storia mutiamoci non ci possiamo buttare verso una nabu me lo ero dimenticato dai dai difesa bello difesa però dai ci prendiamo mute e figo mio dio canno dai io porco dai dai disattiviamo tutti sti finocchi che magari se prendono le cuffie iniziano per il cazzo e buddha e dio dai 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 veloce 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 rapida tra zero però c'è voglio provare una cosa che non ho mai provato che se ce la faccio ce la provo magari funziona però spero che non succeda cosa più brutta che non ve la dico perché cioè spero che non succede se non succede ve lo dico però se succede cioè succederanno cose brutte ve lo dico subito io po dai su ecco questo volevo provare io c'è subito così tac 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 subito tac 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 ma ma che cazzo poco bello il gioco eh poco una merda poco uno stronzo che gioco ti inventa sì sì adesso adesso che fine fai eh che fine fai eh questa questa fine che fine fanno quei videogiochi di merda a a a